La cascata di... come si chiama? Bogova! Bogova! Guarda c'è Desi, c'è Sai, Sai! Fa freddo eh? Guarda c'è mio fratello, qua è bellissimo, guarda! Ciao! Guarda Desi che ti fa un bagno, è gelato! Dai che lo facciamo io! Guarda! Guarda! Aspetta così! Dove scesca già! I Komodo, go! Sì e' un'escrivito, non è un'escrivita Eran! O me! Dai, buttati! Buttati! l'acqua è molto profonda, non si arriva alla fine, se uno si vuole fare un'immersione non può, ecco il campione in carica, vai, basta, 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 non entro più, basta, basta se vuoi poi stai indo, facciamo una foto stai, questa è l'ultima volta perché se no io vorrei è l'ultima 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 è l'ultima